E bentornati, l'X Summit è appena finito, non ho avuto modo di vedere altre recensioni, le recensioni sono uscite subito dopo e quindi parleremo di quello che ho potuto capire dalla discussione. Partiamo dal presupposto che finalmente l'evento in generale è un po' più vivo rispetto alla presentazione dell'X H2 che era veramente un funerario, un presentabile. Stavolta hanno fatto qualcosina di più, un pochino di più verbi c'è stata, anche se sono sempre giapponesi e tutto un po' scuretto, si può fare meglio. Sarebbe bello arrivare a un livello di produzione come quello di Apple, ma non ci si arriverà mai. Dopo una partenziale in cui si sono vantati dei risultati delle vendite di X H2S, del 50-600, di come la gente è contenta di bla 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 bla, le classiche cose che stiamo a dire all'inizio di ogni evento, sono cataputtati immediatamente sulla X H2S. Ora, sapevamo quasi tutto di quello che sarebbe stato presentato a quest'evento, grazie all'enorme lavoro che fa Fuji Rumors. Patrick, ogni tanto dovresti sbagliare questi benedetti Rumors, perché se no ci toglie il piacere della sorpresa. Scherzo, eh? Ma la X H2 adesso è reale, abbiamo i 40 megapixel di cui abbiamo sempre saputo, hanno puntato sulla parola power, 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 la potenza di questa fotocamera, potenza nel dettaglio, potenza nel calcolo, potenza in tutto, power è stata la parola che hanno detto in continuazione, quindi hanno molto focalizzato l'attenzione su quello. Hanno chiaramente puntato l'attenzione sul fatto che la fotocamera PSC con la risoluzione più alta sul mercato, almeno ad oggi, il momento della presentazione, sono passati da 40 megapixel immediatamente alla discussione sull'8K, chiaramente la fotocamera può fare 8K a 30 frame al secondo in 4, 2, 2 a 10 bit in H.265, e può fare l'8K a 30 frame al secondo 12 bit RAW su registratore esterno, caratteristica un pochino condivisa con la XH2S, anche se quella fa il 6K. Poi hanno cominciato a parlare di una stampa gigantesca, 8x6, 48 metri quasi, una stampa gigantesca, ci ha raccontato quanto i dettagli fossero belli, vabbè, noi non li possiamo vedere, siamo dovuti fidare di quello che ci ha detto. E poi ci hanno cominciato a parlare di qualcosa di veramente interessante, cioè il Pixel Shift. Il Pixel Shift che è già presente sulla GFX, che hanno implementato sulla XH2, che porta, usando 20 foto, porta a un totale di 160 megapixel con lo spostamento del sensore. Ovviamente hanno focalizzato l'attenzione di questa caratteristica su un paio di generi particolari, che sarebbe la fotografia di archivio e la fotografia commerciale. Immagino che con soggetti anche lievemente, come potrebbero essere foglie o cascate o acqua in generale, il risultato possa non essere il massimo, ma lo vedremo, sono già uscite delle recensioni, vedremo, e non le ho ancora viste. Poi hanno cominciato a parlare di ISO, hanno abbassato la sensibilità base da 125 a, scusami, da 160 a 125, il che porta in video a una sensibilità dell'F-Log a 500 ISO e dell'F-Log 2 a 1000 ISO, invece dei 640 e 1250 sull'XH2S, ma anche sull'X64, che non ha l'F-Log 2 però, hanno parlato di un migliore rapporto segnale-rumore, anche se secondo me hanno invertito parlando di sensore HS o HR nel grafico, ma vabbè, comunque alla fine non ci interessa troppo. E poi hanno puntato su una cosa che può essere sottovalutata, ma che in realtà se funziona bene potrebbe essere veramente interessante, c'è l'otturatore elettronico a un 180 millesimo di secondo, che permette di congelare davvero l'azione in una maniera importante. Ora, è chiaro che bisogna avere l'illuminazione corretta, bisogna avere tutto, non si scatta un 180 millesimo di secondo facilmente, però il momento in cui ce l'hai e riesci a farlo può darti degli ottimi risultati. Parlando invece di corpo macchina, il corpo è assolutamente uguale a quello dell'XH2S, e quindi stesse tipologie di schede, stesso mirino, stesso monitor LCD, stesso tutto, stessa tropicalizzazione, eccetera, eccetera. La fotocamera sarà disponibile a settembre, alla fine di settembre, per 1.990 dollari, che da noi credo saranno 2.150-2.200 euro, ed è una fotocamera interessante, sicuramente più appetibile per la maggior parte delle persone rispetto alla XH2S, e ci lascia intuire come potrà essere la X-T5, anche se noi ci aspettiamo qualcosina sull'X-T5 che non è arrivato. Io immagino che la X-T5 verrà castrata senza 8K, si fermerà un 4K a 60 frame al secondo, ma lo scopriremo. Spero che possa mantenere l'otturatore tonico con 180 millesimi di secondo e il pixel shift, sarebbe importante, da un punto di vista fotografico sicuramente sì, vedremo. E dopo di che ci sono spostati sulle nuove lenti, dicendoci quanto sono ottime il 18, il 23, il 33, che sono già state dal 2021 presentate, pronte per il nuovo sensore. Ci hanno detto che ci sarà un riassunto, cosa ci hanno detto alla fine, ci sarà un riassunto di quale lenti sono perfettamente performanti con il sensore nuovo e quale saranno semplicemente ok, hanno detto loro. e quindi aspettiamo quella. E poi hanno presentato il 56 mm nuovo, sapevamo anche di quello. Ora, il 56 mm nuovo hanno decantato le lodi, ci hanno detto che il gruppo autofocus, che prende la maggior parte delle lenti, è più grosso, è più pesante, quindi l'autofocus hanno dovuto migliorarlo molto dal punto di vista della potenza del motore autofocus per muovere avanti e indietro. ci hanno detto che essendo più pesante è anche più grosso. Non ci hanno detto né il peso, né le dimensioni dell'obiettivo, il che mi fa pensare che sarà un pochino più grosso, un pochino più pesante del precedente. Però ci hanno detto che hanno puntato tantissimo su due cose che in teoria contrastanti, cioè una migliore risoluzione nelle parti in fuoco, una migliore bokeh nelle parti fuori fuoco. Resta da vedere se tutto ciò significa passaggi molto netti fra fuoco e fuori fuoco. Ci sarà già qualche video che ne parlerà, vedremo. Ma in generale l'obiettivo sembra molto interessante. Mi chiede un fotografo giapponese che ci ha parlato in giapponese di quello che ha apprezzato dell'obiettivo. il prezzo tutto sommato devo dire che è gestibile perché sì, 1000 dollari, 1100 euro immagino non sono pochi però i prezzi continuano ad andare su vertiginosamente a causa di quello che sta succedendo in tutto il mondo. L'obiettivo precedente non è che costasse poi così tanto meno. Quindi mantenere un prezzo umano se mantengono le premesse sulla qualità dell'obiettivo tutto sommato mi fa pensare che il prezzo sia corretto. Non hanno sparato una cifra fuori dal mondo. Sanno benissimo che l'utenza Fuji ha certi limiti dal punto di vista della spesa degli obiettivi. Non avrebbero potuto presentare un obiettivo col costo dell'85 f1.2 Canon per sistema R. Quindi direi abbastanza bene. Poi siamo spettati sul sistema GFX e al di là della discussione sugli award per il Global Grand Project Award del 2021 e quello che succede nel 2022 con questi progetti finanziati da Fuji per il quale stanno accettando ora le application per il 2022. Siamo spostati al nuovo obiettivo che è il 2035 f4 super grand'angolo abbastanza leggero e gestibile con un fuoco interno zoomato interna e tutto roba quindi molto interessante solo tra virgolette 725 grammi che per un obiettivo medio formato non è male filtro da 82 mm quindi compatibile con altri obiettivi della stessa linea quindi non mi fa impazzire nel cambio filtri anche lì sono focalizzati sempre sul dettaglio 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 il dettaglio è stato quello che ha caratterizzato in generale il filo conduttore di questo di questo evento e poi a fine discussione hanno avuto dei fotografi che parlavano di quanto sono ottime le fotocamere quanto sono belle gli obiettivi eccetera eccetera con un momento un po' imbarazzante in quale uno dei fotografi ci ha detto che non amava il vecchio 23 mm per il meccanismo diciamo della ghiera che andava indietro non gli piaceva tanto e l'autofocus non era tutto sto che in realtà era per dire che il nuovo è fantastico le nuove macchine sono fantastiche però è stato un momento un pochino imbarazzante perché magari non si aspettavano questo tipo di questo tipo di uscita ma live è live e dopodiché alla fine di questo diciamo discussione dove c'erano quattro fotografi dedicati a velocità e video quindi a xh2s e quattro fotografi che erano state invece le xh2 c'è stato il one more thing che in questo caso è stato two more things due cose in più e ci hanno detto ci hanno presentato fisicamente i due obiettivi tilt and shift per il sistema gfx il 30 mm se non sbaglio il 110 mm obiettivi che devono esserci in un sistema di quel genere quindi fuji sta continuando a investire e che completano un sistema già abbastanza importante dal punto di vista di uso molto professionale super professionale direi che in generale fuji continua sembra continuare ad ascoltare gli utenti io ho chiesto nella live ma non mi hanno risposto se porteranno il sensor shift anche sull'xh2s perché tecnicamente si può fare se non lo fanno è perché vogliono tenere separate le due cose non mi hanno risposto continuerò a chiederlo secondo me si può fare e sarebbe oggettivamente interessante da fare su una macchina come l'xh2s con minore numero di pixel perché permetterebbe in quelle condizioni particolari di ottenere un risultato più presentabile in certe condizioni e boh mi sembra di poter dire che comunque fuji è sul pezzo aspettiamo di vedere cosa presentaranno con l'xt5 io personalmente ho due dubbi uno non so se vendere l'xt4 quando mi tornerà il 18.000 che mi sta registrando è già tornato quando mi restituiranno l'xt4 farò un video compressivo in cui vi parlo dell'assistenza della mia esperienza con l'assistenza devo capire quindi se vende l'xt4 e vende l'xh2 per un motivo semplicissimo il layout dei tasti dei bottoni è così completamente diverso che la mia paura è che passare da una fotocamera all'altra possa essere un po' un incubo se si voglia fare usarla in contemporanea quindi il mio dubbio è investo sull'xh2s sull'xh2 visto che ho l'xh2s in modo di avere due corpi completamente compatibili e non pensarci più o provo a resistere con l'xt4 e vedere se un corpo più piacevole da usare in libertà come la linea xt può convivere con un sistema di layout completamente diverso non lo so altra cosa è il 56 io ho avuto il 56 vecchio per tanto tempo dopo che ho cominciato a non usarlo quindi ho pensato di venderlo perché non mi piace far prendere muffa agli obiettivi ora nei miei piani c'è di ricominciare a fare dei ritratti la verità però è che non ho avuto il tempo e non ho ancora incominciato quindi spendere questi mille errotti euro senza sapere se poi lo userò o meno mi crea qualche turba psichica visto che Fuji non mi manda niente io gli obiettivi le macchino di avvia le compro quindi devo decidere dove investire i miei soldi soprattutto nel momento in cui non si sa il futuro cosa ci può portare quindi non so cosa vi porterò di contenuti nuovi sul sul canale appena mi arriva il 18120 quello è sicuramente ordinato quello lo devo prendere dopodichè non so detto questo per me ripeto Fuji sta continuando ad ascoltare la clientela e gli affezionati vediamo il futuro cosa ci porterà sono curioso di vedere come sarà la XT5 la XS20 immagino si chiamerà così e le altre macchine che proporranno perché potrebbero essere molto molto interessanti direi che per stasera è tutto probabilmente vedrete questo video l'indomani dell'X Summit perché non ho avuto il tempo di caricarlo e ci vediamo la settimana prossima spero con un video specifico sull'autofocus continuo dell'XH2S perché ho potuto testare in ambienti molto diversi e ve ne voglio parlare perché su YouTube su Internet ho letto tanta roba che secondo me non sta ne in cielo ne in terra però vorrei parlare con voi e farvi vedere il perché va bene per oggi è tutto alla prossima ciao ciao